PEGI 16 SEGA L'età napoleonica, un'era di epici combattimenti di terra e battaglie navali, di disordini politici e grandi rivoluzioni. Un'era definita da un solo leggendario generale. Per una sfida estrema, gioca contro degli avversari umani in una delle nuove modalità multigiocatore di Napoleon Total War. Una delle caratteristiche più attese e desiderate di Napoleon Total War sono le campagne multigiocatore. Ognuno dei tre teatri di battaglia, Italia, Egitto ed Europa, è disponibile per essere giocato online in partite a turni con due giocatori. Le alleanze militari e gli accordi commerciali possono darti più forza nel breve periodo, ma alla fine solo un giocatore vincerà. impara quali sono i tuoi veri amici e chi sono i nemici, combattendo o alleandoti con loro per conquistare i vari teatri di guerra. E per la campagna giocatore singolo, Drop in Battles, una nuova e super innovativa caratteristica, permette al giocatore di invitare i propri amici o nemici a sostituire il computer e a prendere il comando dell'esercito nemico nelle battaglie della campagna giocatore singolo. Oppure perché non entrare nella campagna di un amico, vestire i panni del generale nemico e cercare di ostacolare le sue aspirazioni di grandezza. Questa rivoluzionaria caratteristica della campagna giocatore singolo offrirà una sfida nuova ed esclusiva sia ai nuovi giocatori, sia ai veterani della serie Total League. Prendi il comando in una serie di battaglie accurate dal punto di vista storico, con la possibilità di avere fino a otto giocatori che rivivono i conflitti più famosi dell'epoca, comprese le famose battaglie di Austerlitz, Trafalgar e Waterloo. Sei in grado di cambiare il corso della storia quando tutte le previsioni sono contro di te? Sarai tu il più grande generale dell'epoca napoleonica.